La bandiera rosa nera esposta sulla facciata di Palazzo dell'Acqua la conferma di quella che è una posizione dovuta e anche convinta all'amministrazione comunale di consentire alla squadra al massimo livello cittadino che gioca il calcio di utilizzare lo glorioso stadio Barbera. È evidente che questa concessione che deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dovrà tener conto di tutte le disposizioni normative che sono nel frattempo intervenute a iniziare dal blocco di ogni attività dal 16 di marzo che certamente incide sul valore locativo di questo immobile così come potrà incidere sul valore locativo di questo immobile quello che è determinato in condizioni ordinarie l'eventuale intervento di sospensione o di riduzione delle attività agonistiche o in maniera ancora più significativa dell'accesso dei tifosi alle partite. Da questo punto di vista l'amministrazione comunale conferma la volontà di utilizzare la nel frattempo intervenuta normativa nazionale e regionale che prevede l'agevolazione delle attività anche in termini di riduzione o esenzione della fiscalità locale per l'anno 2020. Questo riguarda ovviamente tanto l'imposta di pubblicità quanto la Tari quanto la TOSAP per sintetizzare le categorie diverse di fiscalità locale. Credo che dovrà anche il Consiglio Comunale esaminare la proposta che verrà sottoposta che tiene conto dell'eventuale influenza sul valore locativo della circostanza che la squadra gioca in un girone di serie C o di serie B o di serie A che credo possa comportare come normale che comporti un'eventuale diversa modulazione del valore economico della locazione. È la conferma ulteriore convinta nel rispetto della normativa quella persistente e quella nel frattempo intervenuta della volontà della città di sostenere in tutte le forme possibili e consentite dall'isolazione vigente lo sforzo della società di restituire alla nostra città ma anche all'intero paese una squadra di qualità.